Un noto imprenditore di Taurianova che, vedendosi schiacciato da alcune vicessitudini della vita economica della sua azienda, ha cercato di togliersi la vita tagliandosi le vene. Si tratta di Vincenzo Cannatà, l'uomo di 82 anni, è stato trovato agonizzante ieri mattina dall'abbadante, che ha subito avvertito il figlio Claudio, il quale, intervenendo tempestivamente, è riuscito a salvargli la vita. L'imprenditore si trova ora ricoverato all'ospedale di Polistena, dove non è in pericolo di vita. Un gesto estremo, dettato probabilmente dalla grave crisi economica che ha investito la sua azienda, a seguito dell'incendio che nel dicembre del 2010 ha quasi completamente distrutto l'area industriale dove si trovava la sua azienda. Tra le principali società nella distribuzione e commercializzazione di carta, cancelleria e mobili per ufficio. Da quell'episodio il lento declino dell'impresa da lui creata tanti anni fa, una fatalità che ha portato lo stesso imprenditore a licenziare molti dipendenti. L'imprenditore, ora ricoverato a Polistena, non si è mai completamente ripreso da quel terribile episodio, il cui procedimento giudiziario, a distanza di quattro anni, non si è ancora concluso. Dopo quattro anni la vicenda non è stata chiarita e con molta probabilità quel drammatico passaggio ha portato l'imprenditore verso il gesto estremo.